no vabbè ragazzi cliccando con veronica su manuel guardate che cosa mi è uscito su presenta a e c'è lui sebastian santos l'ex marito di veronica cioè mi state dicendo che lui adesso è qui nei paraggi oddio vediamo eh sì ragazzi è qui ma non abitava evergreen harbor che ci fa da queste parti tra l'altro oddio ha adottato un cagnolino tex in autonomia perché io non gli ho mai fatto adottare un cane e anche l'espressione un pochino arrabbiata ma chissà sia un caso che sta qua vicino casa nostra oddio speriamo che fabio non sappia di questa storia perché sennò da veramente in escandescenza ok sembra stare tranquilla a lavorare davanti al computer quindi non si è accorto di nulla almeno per il momento ciao a tutti e benvenuti su azalea channel in questo nuovo episodio di another life 2.0 ed ecco manuel che ci accoglie gattonando perché sì ragazzi ha imparato anche a gattonare vi faccio vedere che ha raggiunto qualche altra pietra miliare eccola qua imparato a gattonare attento mondo manuel è a piede libero avendo imparato a gattonare non c'è limite alle monellerie che potrà combinare ovviamente prima anche imparato ad arrampicarsi non c'è niente di inquietante in un lattante che si arrampica avvalendosi della forza della coordinazione che ha appena acquisito manuel si è sollevato dal pavimento per arrampicarsi ovunque possa ebbene sì ragazzi guardate quanti progressi ha compiuto manuel dopo la prima tappa ha provato anche i primi stuzzichini e guardate qui quanti bellissimi ricordi che abbiamo raggiunto io penso che a questo punto manchino pochi progressi principali della fase di vita di lattante adesso la cosa più importante che manca sicuramente è quella di imparare a stare in piedi e muovere i primi passetti però per il resto ragazzi manuel veramente ha compito tanti progressi e veronica e fabio sono molto orgogliosi di lui comunque vi faccio vedere che c'è anche qualche piccola novità in casa perché ho giocato qualche altro giorno con loro mi hanno guadagnato dei soldini per fortuna abbastanza velocemente perché veronica comunque guadagna parecchio al giorno e ormai devo dire che anche fabio a ogni incarico prende abbastanza perché ha raggiunto un livello di scrittura molto elevato adesso il suo prossimo incarico lo dovrà portare a termine entro domenica e vedete che il compenso già si aggira sui 1200 ogni tanto becca anche gli ingaggi da 2000 e passa quindi assolutamente ottimo e grazie questo ragazzi ho potuto arredare un po meglio ancora la casa come potete vedere ho concluso praticamente la parte anche del salone guardate qui che angolino carino che mi è venuto fuori adoro davvero qua fabio ci ha voluto si è voluto comprare anche la console per i videogiochi e quindi glielo ho piazzata qui c'è l'altoparlante un vassoio per metterci dei bei bicchieri di spremuta per quando vengono gli ospiti visto che adesso è stata e fa caldo qua ci ho messo delle tendine le stesse che ho piazzato anche nella parte da pranzo e poi alla parete qua ci ho messo questo bel quadro che mi dà un'idea di rilassatezza non so perché mentre da questa parte ci ho appeso alcune foto guardate qua che foto carine che ho fatto questo sono veronica e fabio lungo lungomare di san sequoia e queste sono loro e tre insieme davanti proprio alla sequoia che dà il nome alla città questa foto è rimasta vuota per il momento perché ce ne voglio mettere una grande di quando manuel crescerà e diventerà un toddlerino facendo la sua foto e poi qua ci ho messo una foto di manuel con i primi stuzzichini e questa era la foto di penny che abbiamo fatto quando era venuta a trovare l'izzi nel weekend e diciamo che l'idea ragazzi di trasformare questa parete in una parete fotografica quindi le fotine dei momenti più carini e importanti della loro famiglia le appenderò tutte su questo muro e qua guardate che carini questi due puff così colorati questi ragazzi li ha fatti veronica con l'abilità di lavoro a maglia lei anche è diventata piuttosto brava adesso realizza degli oggettini molto carini quindi alcuni li faccio vendere su plopsi e altri quelli che mi piacciono di più ragazzi me li tengo io cioè guardate che carini poi si intonano benissimo con il colore del divano le decorazioni eccetera quindi li ho dorati e li ho messi qua ci metterò poi anche qualche altra decorazione che farà lei in particolare quella del portavasi già ho un'idea di piazzarlo qua e poi invece vedete che qui in questo su questa parete ho appeso i puzzle questo l'avevano fatto la volta scorsa con penny al centro ricreativo mentre questo l'hanno fatto un altro giorno che sono andati questo da 50 pezzi questo da 250 guardate che carini ragazzi bellissimi pazzo li adoro prima o poi li farò tutti e a proposito ne ho fatto anche un altro eccolo qua guardate che carino con il cagnolino e il gattino che poi sta benissimo qua appeso sulla parete con le decorazioni degli animali nella nursery di Manuel veramente adorabile e quindi ragazzi il piano terra direi che è praticamente finito mi manca solo la lavanderia ma la farò per ultima proprio come ultima stanza della casa anche perché ragazzi diciamo la verità non ho tutta questa voglia di fare le lavatrici quindi sicuramente è l'ultimo mio pensiero ah qua ci ho messo l'acquario perché a parte è molto decorativo quindi mi piace un sacco proprio come arricchisce la stanza ancora in vuoto perché ragazzi Fabio tra le varie attività che gli piace fare c'è anche la pesca devo dire che da quanto si sono trasferiti a Sanseguoia ha avuto poco tempo per pescare ma a breve spera di ripotersi dedicare a questo suo hobby e quindi ci metterò alcuni pesci carini insomma colorati che lui riuscirà a pescarmi e poi vi faccio anche vedere che al piano di sopra ho iniziato a sistemare un po' la camera di Veronica e Fabio per il momento ho messo soltanto in letto due comodini e poi guardate qua che bello ragazzi lo volevo assolutamente realizzare da tempo in una delle mie case ci ho fatto una bella cabina armadio visto che la stanza era piuttosto grande ho detto ma si sapete che c'è ci faccio questa bella cabina armadio quindi qua con tutti gli abiti appesi, le scarpe, le valigie della nuova espansione, la term di abiti bella mi piace un sacco però ovviamente il resto della stanza è ancora da fare ah e guardate anche questa tartarugina di lana che carina anche questa l'ha fatta Veronica con il lavoro a maglia ma guardate che amore l'ho voluta subito mettere nella camera di Manuel perché immagino che diventerà sicuramente uno dei suoi peluche diciamo giochini preferiti intanto a Veronica le faccio infornare dei bagel ai mirtilli perché oggi ragazzi Veronica e Fabio hanno voglia di andare a conoscere qualcuno dei loro vicini perché da quando sono arrivati qui a Sanseguoia non hanno avuto molto l'opportunità di fare conoscenza e sentono a un certo punto questa necessità soprattutto magari se trovano delle altre coppie che hanno figli piccoli anche per confrontarsi con loro far fare amicizia magari a Manuel con altri bambini in modo che possano crescere insieme divertendosi e quindi oggi Veronica si sta impegnando a cucinare questi dolcettini perché vuole portarli ai loro vicini di casa e intanto Fabio invece sta qui ok ecco appena gli ho comprato la console subito lui si è messo a giocare ma va bene e Manuel invece sta giocando qui tranquillo per conto suo perfetto perché ragazzi se vi ricordate loro quando stavano ancora a Evergreen Harbor avevano un gruppo un club cioè entrambi in realtà ancora ne fanno parte del club creme della creme la cui leader è Clara che era un club di cucina tendenzialmente quindi si riunivano per cucinare preparare qualcosa e mangiare insieme allora qua intanto va variato fra 23 ore perfetto quindi lo mettiamo nell'inventario così poi lo portiamo in dono ai vicini vi dicevo facevano parte di questo club da quando però si sono trasferiti qui a Sanseguoia non ne hanno davvero più avuto il tempo di andare alle riunioni stare con gli altri eccetera anche perché essendo Clara la Liden la maggior parte delle volte si riunivano a casa sua che tra l'altro è anche una casa grande che sta a Windenburg quindi sicuramente per loro adesso diventa problematico perché Windenburg e Sanseguoia comunque non stanno vicinissimi e quindi adesso che hanno Manuel hanno sicuramente poco tempo e per cui anche se malincuore perché comunque si trovavano bene con questi altri gruppi di persone hanno deciso di lasciare il club e appunto dedicarsi insomma a nuove amicizie che hanno più vicino volevo proprio far lasciare il club però ragazzi non trovo più l'opzione quella lascia il club io non so perché a volte alcune opzioni compaiono subito altre volte non compaiono più boh non lo so vabbè magari farò un ultimo raduno proprio con il club clicco su su Clara e gli facciamo questa comunicazione ufficiale che lasciamo il club perché per il momento boh non so perché non riesco a lasciarlo in alcun modo comunque direi che si è fatto primo pomeriggio per cui andiamo a conoscere i nostri nuovi vicini che spero siano tornati dal lavoro anche loro così ci viene ad aprire qualcuno e tra tutte le famiglie che già abitano a Sanseguoia secondo me Veronica e Fabio potrebbero fare amicizia in particolare con loro i Michelson semplicemente perché hanno una bimba che se non sbaglio si chiama Orion che ha la stessa età di Manuel sono tutte due lattanti quindi mi piacerebbe che con il tempo anche questi piccolini facessero amicizia tra loro in modo da poter crescere insieme per cui direi che andiamo a trovarli anche perché hanno una casa stratosferica e sono curiosissima di vederla anche all'interno e andiamo con Fabio e basta Manuel al momento lo mandiamo all'asilo e poi i bimbi li facciamo conoscere magari un po' più in là però per il momento facciamo conoscenza con i membri grandi della famiglia leggiamoci prima anche la descrizione di questa famiglia così iniziamo un pochino a conoscerli anche noi Celeste e Christopher si sono conosciuti lavorando nella stessa start up stentavano a credere quanto avessero in comune la prima volta che andarono a prendere un caffè insieme dopo il matrimonio adottarono Atlas e subito iniziarono a viziarlo all'inverosimile ora che hanno adottato anche Orion sono impegnati a tempo pieno a farli diventare smanettoni quanto loro e ragazzi vedete che i Michelson hanno un'altra cosa in comune con Veronica e Fabio ovvero che anche loro hanno adottato i loro figli andiamo a bussare alla porta e vediamo chi viene ad accoglierci uh tra l'altro qui c'è anche Salim che è venuto qua da San Maesciuno chissà forse anche lui conosce i Michelson è permesso? entrate pure! oh perfetto qualcuno c'è in casa ecco qui veniamo entrambi a salutare la padrona di casa Celeste Michelson ragazzi come vedete ho aggiustato un po' i look di questa famiglia perché mi piaceva di più insomma che fossero vestiti anche a puntino comunque direi presentiamoci da in maniera allegra visto che Veronica ha acquisito questo nuovo tratto salve abitiamo qua vicino ci siamo trasferiti da poco io sono Veronica e invece questo è mio marito Fabio piacere oh piacere io sono Celeste intanto abbiamo scoperto che Celeste è allegra e quindi in questo caso penso posso andare d'accordo con Veronica è anche ambiziosa e sicura ok vediamo proprio ragazzi se è comparso qualcosa circa la compatibilità si vedete allora Fabio è compatibile con Celeste dice buona compatibilità e con Veronica ah con lei ancora non è comparso nulla vedremo se più avanti comparirà qualcos'altro intanto che loro stanno qua a chiacchierare io mi do un'occhiatina alla loro casa molto carina ragazzi beh qui si vede che c'è lo zampino dei Game Changers sotto e guardate un po' qui chi c'è? c'è la piccola Orion che carina che sta giocando nella palestrina qui invece c'è il figlio più grande Atlas e oh ma ci sono tutti c'è anche il marito di Celeste Christopher ok io poi però aspettate che volevo dare un'occhiata anche a questo giardino che è splendido ragazzi guardate che giardino meraviglioso hanno pure un mini parco acquatico e un bellissimo gazebo e qua l'albero che poi diventa può diventare la casetta sull'albero che bello io vorrei fare una cosa del genere nel giardino di Veronica e Fabio anche se loro è un pochino più piccolo però prenderò spunto direi assolutamente sì comunque vero visto che ti sei impegnata tanto a preparare questi bagel io direi che adesso glieli diamo chiedi di farti presentare a oddio sì assolutamente facciamoci presentare a Orion però prima vorrei darti questa cosina ecco entusiasmati per la cottura al forno e poi le diamo il regalino che abbiamo fatto con le nostre mani Fabio per favore basta mamma mia ogni tanto Fabio sclera un po' troppo direi con questo fatto della gelosia oppure con Celeste dai Fabio su 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 prenditi una camomilla oh brava Celeste fai una foto fatti un selfie cerca di di non dare troppo peso a questa situazione dai regalo amichevole ecco qua bagel ai mirtilli spero che Celeste apprezzi dolci sai mi sono permessa di cucinarti qualcosina come come regalino spero ti piacciano vediamo un po' oh sì sì perfetto apprezzati i nostri dolcetti sentimento acquisito per me significa molto che trovi del tempo da dedicarmi volevo che lo sapessi oh perfetto allora adesso direi che possiamo sederci e chiacchierare un pochino qui e intanto volevo però far conoscenza anche con gli altri membri della famiglia oh guardate che carino qua Cristo perché si sta giustamente occupando di Orion quindi forse un attimino impegnato comunque intanto chiacchieriamo un po' con Celeste spettegola sui vicini beh oddio più che spettegola magari nel senso ci facciamo raccontare qualche cosa su altri nostri vicini di casa e intanto però io sono curiosa per cui vorrei sapere ecco ad esempio la carriera che lavoro fa Celeste Fabio ha preso che Celeste è il genere dello start-up presso intrantenitori per i giorni di pioggia ah ecco lo start-up di cui leggevamo nella descrizione intanto vi vorrei far notare ragazzi che Fabio è un po' in imbarazzo commento imbarazzante perché perché Fabio ha detto quella cosa ecco si è reso conto forse di avere un attimino esagerato prima con a fare quella scenata con Veronica davanti Celeste su ok beh dai adesso forse spero che la situazione si sia risolta lui è rimasto un pochino teso però dai potremmo farcela intanto Veronica guardate quanto è contenta spirito del dare perché il suo regalo è stato gradito direi che dai veniamo al piano di sopra facciamo finta che Celeste ci ha chiamato così ci presenta i suoi figli e suo marito quant'è carina anche Oion guardatela oh mi sembra una lattante molto tranquillina devo dire a lei piace stare da sola contrariamente a Manuel che invece gli piace più stare in braccio allora presentiamoci anche con lui dai presentazione allegra anche tu Fabio presentati con Christopher che vedo in realtà facciamo una presentazione divertente che vedo che anche lui sta giocando al computer visto che pure a Fabio piacciono i videogiochi magari possono farsi una partitina online insieme qualche volta perché no abbiamo scoperto che Christopher è smanettone amante dell'arte e amante della famiglia perfetto e adesso veniamo qua a conoscere anche il figlio più grande oh guardate che carini loro due si vogliono molto molto bene allora presentiamoci in maniera amichevole vieni Veronica anche tu facciamo tutti le dovute presentazioni ciao Atlas come stai ma vedo che sei già grandicello che classe fai? eh io sto affinando gli elementari sono alla quinta elementare wow ma allora se lo metto eh sì è un po' la testa calda però lui effettivamente ragazzi dal trailer che avevamo visto si era un pochino intuito però adesso voglio conoscere il membro più piccolino della famiglia quindi chiedi di presentarti a Orion uh Fabio è andata a prenderla in braccio proprio ma che caro si vede che l'ha sentita piangere e quindi l'ha presa in braccio oh che carina eccoci qua eh sì deve proprio avere la stessa età di Manuel oh vanno subito d'accordo ragazzi ma che carini abbiamo scoperto che è iperattiva oh non l'avrei detto mi sembrava molto tranquilla come bimba e adesso vabbè giustamente la sta mettendo qui nella palestrina così può giocare o riposarsi e ragazzi Christopher e Celeste ci hanno invitato a mangiare un panino qui che Christopher ha cucinato alla braccia e quindi direi che accettiamo molto volentieri dai chiamiamo a tavola così ci mangiamo questa prelibatezza insieme ma sono stati davvero molto gentili ad invitarci a cena sì sì ragazzi penso proprio che tra loro potrebbe nascere una bellissima amicizia come già vi dicevo prima ma perché noi ci mettiamo qua che mi piace un sacco questo posto sotto questo gazebo pieno di rose dai andiamo qua a sederci così ci rilassiamo e intanto chiacchieriamo un pochino chiediamo anche a Christopher cosa fa di lavoro anche se probabilmente ci dirà che fa lo stesso lavoro di Celeste sicuramente allora Christopher dimmi anche tu lavori insieme a Celeste? lui invece è pioniere della dot com presso intrattenimento per giorni di pioggia sì ragazzi fanno praticamente parte della stessa azienda forse lavorano diciamo in equip diversi però in equip diverse però comunque sempre nello stesso posto insomma attività simili ecco discutite le zone di pesca locale dai giusto perché vi dicevo che Fabio vorrebbe ricominciare un pochino a pescare magari si fa dire da Christopher se qual è il punto migliore dello stagno in cui prendere i pesci visto che loro abitano qui da più tempo qualche segretuccio intanto grazie a lui abbiamo individuato un nuovo tipo di pesce il pesce disco ma grazie mille Christopher allora sicuramente seguirò il tuo consiglio e andrò a pescare lì dove mi hai detto intanto si è fatto anche abbastanza tardi per cui adesso Veronica è andata qui a salutare Celeste e ringraziandola del bel pemoriggio passato insieme e insomma grazie davvero anche per la cena adesso noi torniamo a casa ma insomma spero che possiamo vederci presto per fare magari una passeggiata insieme che ne dici oh sì sì sicuro fai una cosa aggiungimi anche su social banni così magari ci possiamo sentire anche lì va bene ah sì sì lo farò grazie e infatti Veronica ha proprio tirato fuori il telefono al momento giusto ragazzi e quindi aggiungiamoli ai nostri contatti sia Celeste che Christopher perfetto magari taghiamoli anche ringraziandoli della bella serata trascorsa da interazione amichevole sia con Celeste che con Christopher amichevole per entrambi vediamo cosa hanno scritto trovati una grande amica come Celeste non si può vivere senza grandi amici Christopher ha uno stile sensazionale ogni giorno è uno spettacolo intanto Fabio sta mettendo a letto Manuel e dirai che è ora di andare a dormire tutti quanti bacino della buonanotte facciamo partire la ninna nanna di questi uccellini santi e benedetti perché ogni volta che partono a suonare Manuel istantaneamente si addormenta quindi veramente santi e benedetti questi uccellini e direi che adesso ce ne andiamo tutti a dormire bene dai sono veramente molto contenta guardate un po' anche per quanto riguarda la compatibilità di Fabio verso Christopher dice addirittura ottima compatibilità mentre con Atlas pessima compatibilità ecco che questi due hanno un po' dei tratti che cozzano l'uno con l'altro però vabbè tra parte è un bambino quindi ci sta pure insomma che non faccia così facilmente amicizia con un adulto invece per quanto riguarda Veronica Celeste ancora niente diciamo abbiamo una compatibilità neutra mentre con Christopher un'ottima compatibilità con Orion niente ma è piccolina e con Atlas invece ci va molto più d'accordo rispetto a Fabio intanto che Fabio si è svegliato presto questa mattina per mettersi subito a lavorare bravissimo la nostra Vero sta facendo fare colazione a Manuel e vi faccio vedere che già ha provato qualcosina ah però non mi compare più no guardate lui in realtà mi ha provato diverse cose tipo il gelato il purè di limone le patate dolci altre cosette però qua mi risulta che non ha mai provato mannaggia si è cancellato la cosa sarà sicuramente un bug tanto per cambiare comunque mi risultava che nessun cibo lo aveva ancora convinto per il momento doveva provarlo più volte e niente ragazzi peccato che si siano cancellate vabbè diamogli uno yogurt dai per colazione ci sta lo yogurt non l'avevo mai provato effettivamente vediamo se gli piace oppure no o lo deve provare un paio di volte però ragazzi ho la sensazione che quando sono così piccoli lattanti secondo me non basta una sola una sola volta cioè nel senso secondo me bisogna riprovare le cose anche da quando crescono da toddler ah no perfetto niente la mia teoria è stata appena affondata perché diceva che Manuel cioè ci dice che Manuel in realtà sta gradendo molto lo yogurt degustazione superata ok io pensavo che in realtà i gusti si affinassero quando i lattanti crescono no e invece no non è così ragazzi già da piccolini possono avere i loro gusti vabbè effettivamente ci sta quindi abbiamo scoperto che tra i suoi cibi preferiti c'è lo yogurt uh e chissà se questo mi compara anche come piata miliare intanto ben assistito essere straordinario Manuel se l'è spassato un mondo in compagnia di simi incredibili ovviamente si riferisce a Veronica e qua aspettate che mi era comparso sì facciamola lavorare da casa ok dicevo volevo vedere se il fatto che ha scoperto un gusto preferito di cibo comparisse come pietra miliare ma mi sa di no 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 semplicemente i primi stuzzichini c'è scritto che le prime cose che ha provato sono state le cammela yogurt e la prima pappa le patate dolci però no ok va bene dai però sono contenta che ha scoperto qualcosa che gli piace perfetto adesso direi che lo facciamo uscire così lo mettiamo un pochino a giocare e magari lo facciamo esercitare a stare in piedi che è il il prossimo passo fondamentale che dovrà affrontare Manuel oh guardia carino esercitati a stare insieme proviamo vediamo se è pronto infatti ha imparato a gattonare da poco quindi penso che forse ci vorrà ancora un pochino di tempo però dai proviamo piano piano oddio eccolo qua che carino eh beh sì ancora non ha proprio l'equilibrio giusto ma non preoccupatevi che a breve sicuramente ce la farà anche lui e direi che con oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto se è così mettete il like mettete anche il mi piace alla mia pagina Instagram per rimanere sempre aggiornati e che dire con questi nuovi amici di Veronica e Fabio noi ci salutiamo e ci rivediamo presto nei prossimi video ciao no vabbè ragazzi cliccando con Veronica su Manuel guardate che cosa mi è uscito su presenta a e c'è lui Sebastian Santos l'ex marito di Veronica cioè mi state dicendo che lui adesso è qui nei paraggi oddio vediamo eh sì ragazzi è qui ma non abitava Evergreen Harbor che ci fa da queste parti tra l'altro oddio ha adottato un cagnolino Tex in autonomia perché io non gli ho mai fatto adottare un cagnolo e anche l'espressione un pochino arrabbiata ma chissà se è un caso che sta qua vicino casa nostra oddio speriamo che Fabio non sappia di questa storia perché se no dà veramente in escandescenza ok sembra stare tranquilla a lavorare davanti al computer quindi non si è accorto di nulla almeno per il momento un pochino un pochino Grazie per la visione!